Sono Riccardo Dinelli e Cristian Baroni, gli autori e i protagonisti del video sul Museo Barsanti e Matteucci e sull'invenzione del motore a scoppio. I ragazzi frequentano l'Istituto Tecnico Giorgi e seguiti dai professori Maria Grazia Masini ed Alessandro Colombini hanno realizzato questo elaborato multimediale sotto la supervisione del presidente della Fondazione Barsanti e Matteucci, Giacomo Ricci, un progetto che è nato all'indomani di una visita all'esposizione permanente di via Sant'Andrea. Sono stato molto contento per poter divulgare tra i giovani il valore dei due cittadini lucchesi che nessuno o pochi conoscono. La presentazione dell'elaborato è avvenuta nella sede dell'ufficio scolastico interprovinciale, alla presenza oltre dei docenti e del provveditore Buonriposi, dei responsabili delle maggiori concessionarie automobilistiche lucchesi e della sezione lucchese dell'ACI. Un lavoro che ha permesso ai ragazzi di approfondire, grazie all'aiuto dei professori, la figura dei due inventori lucchesi che hanno di fatto dato il via alla seconda rivoluzione industriale mondiale. È stato bello e più che altro ci ha ricordato un po' come era una volta le difficoltà e le varie cose e poi è stato bello studiare proprio la storia di questi due inventori lucchesi che appunto essendo di Lucca ci ha fatto ricordare il tutto e via. È quello il bello, è nato tutto qua, a Vorno hanno cominciato le prime esperienze così e a vedere come era proprio il motore che hanno iniziato a crearlo, piano piano.